ciao a tutti benvenuti in questa seconda puntata di auto rivoluzione con mauro degli orti di mauro sapete questa questa nuova serie che facciamo sul canale ormai forse non più tanto no perché avete visto un po di puntate già che escono vi ricordo il giovedì mattina alle 6 e in cui parliamo di autoproduzione convinti che l'autoproduzione sia una delle più importanti forme di libertà di liberazione dal sistema di rivoluzione soprattutto allora ciao mauro e grazie per essere con noi anche in questo appuntamento ciao francesco ciao a tutti benvenuti tutti benvenuti allora questa in questa puntata vogliamo parlare di come si può e se si può mettere in atto in campo un creare un orto per il totale autosostentamento cioè almeno per quanto riguarda la verdura la frutta e magari parleremo anche di qualche animale già che ci siamo e se si può in qualche modo e quanto costa e quanto spazio necessario per mettere in pratica un orto che ci permetta di avere quanto meno per tutto l'anno la verdura e la frutta una parte della frutta una parte della verdura e per riuscire a non andare magari più al supermercato a comprarla che sarebbe già un grande traguardo ed essere quasi completamente indipendenti se non completamente scopriremo anche questo no se è possibile o no io ho la mia esperienza di orto sapete che la butto lì sapete che io ho due orti uno abbastanza grande e uno più piccolino e tu mauro invece cosa quanti orti hai dove si trovano quanti orti hai avuto in passato ci racconti brevemente un po qual è la tua sì sì dunque dunque infatti il nome nasce da lì gli orti di mauro perché prima ne avevo più di uno effettivamente sono arrivato a averne fino a cinque quindi gli orti di mauro plurale è ben chiaro perché è nato proprio da quello poi piano piano mi ero concentrato in un'unica posizione che era poi quella finale l'ultima che avete visto quella della casetta che poi è stata lasciata anche quella per quella ragione però diciamo che nel di massimo sono passato da orti piccoli medio piccoli al campo veramente grande che da noi si calcola in pertica e da pertica navarese sono 654 metri e ne avevo 4 in gestione comunque una bella fetta lunga e quindi diciamo che mi sono sbizzarrito un pochino con tutto quello che erano le varie prove esperimenti vari pacciamature di ogni tipo ne ho fatte ne ho fatte un po' di cose ne ho fatte nel passato anche così come le sto continuando a fare adesso perché le devo fare più in piccolo per il momento e poi sappiamo del tuo progetto per chi ci segue e sa del tuo progetto appunto di ricerca di un luogo dove continuare a coltivare a fare le attività che hai sempre portato sul canale allora per quanto riguarda diciamo la messa in campo la messa in pratica di un orto per il totale autosostentamento allora cosa che ci puoi raccontare secondo te secondo la tua esperienza è possibile riuscire a costruirsi un orto che per una persona o per una famiglia possa portare tutta la verdura di cui si è magari anche la frutta di cui si ha bisogno in un anno ad esempio dunque io per esperienza diretta parlo solo per quello che mi riguarda diciamo fondamentalmente posso dire che è brutto dirlo però non riusciamo ad avere un totale autosostentamento a meno che non stiamo a guardare appunto alcuni aspetti che bisogna poi approfondire tipo quali ci serve quali ortaggi possiamo fare cosa vogliamo cosa intendiamo noi per autosostentamento diciamo che secondo il mio punto di vista rinunciando a un certo tipo di ortaggi ecco che magari di cui possiamo magari fare a meno che magari di difficile produzione oppure che alle nostre latitudini non arrivano in base al posto in cui ci troviamo si riesce ad avere nell'arco dell'anno secondo te sempre della verdura più o meno che sia un set abbastanza vario diciamo da avere magari abbastanza vitamine abbastanza sostanze nutritive per noi senza dover andare a comprarla o magari comprando soltanto quelle piccole cose che sono più complesse da piantare tipo ad esempio non so sparo ai peperoni ad esempio che è difficile farli da noi secondo te si riesce ad avere nel corso dell'intero anno una produzione più o meno costante? sì questo sì ripeto parliamo di orticole quindi sì dobbiamo scartare naturalmente tutto quello che potrebbero essere i cereali i frumenti queste cose perché poi richiedono delle attenzioni delle cose che adesso vediamo nel secondo punto però diciamo che se rimaniamo nell'ambito delle orticole io direi di sì riuscite a coprire anche pur avendo magari una piccola sera o comunque delle colture protette avere anche i 12 mesi all'anno anche quando vogliamo andare in inverno poi sarà uno dei punti che poi tratteremo anche nelle puntate più avanti quello appunto di questo argomento che sto dicendo però diciamo che in linea di massima arriviamo sicuramente a coprire se non tutti quasi tutti i mesi dell'anno e per assurdo tutti quanti che io vedo che sento che leggo in giro che i commenti che mi fanno anche a me stesso pare che ci stiamo preoccupando tutti quanti del freddo quando invece io ho constatato personalmente nei vari orti che ho avuto che i provenienti più grossi ci sono per il troppo caldo magari c'è troppa siccità quando le piante rallentano la crescita proprio perché stanno soffrendo il caldo quando le piante vanno a fiore perché stanno soffrendo il caldo quindi entrano in sofferenza sofferenze di tutti i generi soprattutto quella del caldo a me ha dato tutti i problemi sì guarda io confermo anch'io la stessa questione, lo stesso problema perché effettivamente soprattutto gli ultimi due o tre estati sono state veramente molto calde con poca acqua e quindi stare dietro all'orto comunque ha richiesto parecchia attenzione e poi in più diciamolo chiaramente l'inverno è vero che si possono produrre soltanto alcuni ortaggi non enorme varietà con un po' di attenzione però c'è anche la questione che comunque la verdura a fine stagione può essere congelata ma io è una cosa che faccio non so se tu lo fai anche può essere congelata e poi per l'inverno ce l'abbiamo no? Tu la fai questa pratica? Sì non con tutte le cose infatti io sono di quelli che predica la cultura stagionale quindi a consumo diretto perché alcuni degli ortaggi che noi pensiamo di conservare poi dopo intanto alcuni non si conservano benissimo diciamo per esempio le zucchine non sono quelle cose veramente da tenere in congelatore a meno che non si fanno solo delle gran minestre di gran risotto di minestre di zuco passati di verdura però diciamo che alcuni ortaggi per quello che è veramente l'impegno che noi abbiamo poi anche economico nel tenere attivo un congelatore per conservare tutte queste cose non sono sempre stato così convinto non ho matematicamente la cosa sotto mano però alcune cose non mi hanno soddisfatto anche perché poi certi ortaggi per esempio andare a consumarli praticamente fuori stagione non piacciono non piacciono più non vanno io sono per invece concentrarmi per esempio sugli ortaggi di stagione quindi per esempio quando è freddo mangerò dei cavoli e i cavoli quando c'è il freddo vengono bene e sono più buoni sono anche più gradevoli da mangiare voglio dire più piacevoli mangiare un boccolo piuttosto che una zucchina a dicembre certo è un po' snaturato mangiare zucchine a gennaio diciamo sembra quasi da andare contro natura no? e guarda io posso portarti la mia esperienza e io alla fine dell'estate solitamente la verdura è quella che rimane oppure quella che ho accumulato tanto nei periodi in cui c'è tanta produzione tipo le zucchine che arrivano tutte insieme o anche i pomodori che arrivano tutti insieme però è il pomodori più semplice perché fai le passate e faccio dei grandi minestroni li frullo proprio anche direttamente in modo tale che poi dopo ho questa base liquida che posso anche un po' allungare a seconda della situazione con l'acqua aggiungere la pasta e così ma anche per i bambini sai perché con i bambini è più facile mangiare la verdura frullata che non capiscono cosa c'è dentro invece che obbligarli a mangiare la zucchina inganniamo i bambini senti secondo te allora sempre tornando sul punto sul totale autosostentamento se una persona volesse dire io adesso smetto di comprare verdura o comunque diciamo la maggior parte ho capito quello che dici che appunto piantare il frumento, piantare i girasoli occupa un sacco di spazio e non ci si può fare la farina non ci si può fare perché veramente è vero non ha quasi più senso a meno che appunto non si abbiano degli spazi immensi e non si passi tutto il tempo a fare quello secondo te per avere verdura sufficiente per tutto l'anno per una persona più o meno con il metodo NoDig secondo te quanto spazio ci vuole? quanti metri quadri ci vogliono a spanne dalla tua esperienza? dunque io avevo nella pratica 14 cassoni da 2 metri quindi sono 28 metri quadrati più ho avuto due cassoni grandi da 6 metri in uno quindi andiamo a 6-12 più 14 andiamo a 30 metri giusto? una trentina di metri sì, 32 poi malcontati se aggiungiamo anche l'ottagono e le altre tre parti piccole che avevo totali non arrivavo a 50 metri di cassoni e 35 metri le avevo di serra se la serra è stata fatta grande è perché io l'ho sempre udata anche per ritirare altre cose e per lavorarci dentro perché io tutti i lavoretti che eseguivo, poi anche piccoli lavori di falegnameria piuttosto che li ho sempre fatti in serra perché in pieno inverno è l'uomo caldo ma poi in serra la serra è comoda per fare le sementi, per seminare per seminare, per dividere le cose, per giocare perché fondamentalmente mette giù no scusa, ricordiamo a chi non, magari se lo ricordi rapidamente, a chi non è esperto di orto che l'orto non inizia nel momento in cui si pianta nella terra, si fanno i semi, se magari ci vuoi raccontare, si fanno i semi l'anno prima praticamente sì, a secondo poi degli ortaggi che noi decidiamo di provare, quantomeno riprodurre aspettiamo, non so, quello che dicevo anche nella puntata precedente che abbiamo fatto io dicevo, quella volta che ti va a fiore il cosiddetto va in canna all'insalata io non lo vivo come un problema, anzi come un vantaggio, come una risorsa perché mi sta producendo, andrà a fiore e mi produrrà migliaia e migliaia di semi che non devo comprare quindi ecco che torniamo al discorso dell'autoproduzione, dell'autosostentamento e soprattutto della semplicità perché la pianta e la natura aveva già provvisto, ha provveduto a queste cose quindi mi dà un dono che io se sono capace di cogliere e mi impegnerò a cercare di cogliere facendomi spiegare da chi l'ha già fatto ecco io per esempio sono sempre stato molto curioso e sono sempre riuscito in qualsiasi luogo andavo anche per lavoro a far parlare i vecchi del giardino che vedevo magari accanto allo stabilimento dove lavoravo, cioè io nella pausa pranzo invece di fare la pausa pranzo magari mi trovavi là che chiacchieravo col vecchietto in fondo la via perché avevo un orto fantastico però mi ha portato, sembra sempre una barzelletta però questo mi portava a casa a volte anche il pugnetto di semi perché poi c'è quello vogliono, questa zucchina qua gliela do io e sono 50 anni che mio nonno la faceva autoctone al massimo proprio sì sì assolutamente e quindi da questo qua è il bello anche di appunto vivere in questo modo a contatto con le persone poi ti scambi anche i semi quindi praticamente l'iter più o meno è questo cioè si prepari i semi l'anno prima sostanzialmente e poi dopo lì e fai quando è già questo periodo penso dalle tue dettudine si inizi a preparare le piantine più o meno giusto, dalle due parti adesso io nella pratica al momento attuale che io e te stiamo conversando non ho iniziato nessuna semina però per esempio questa mattina ho messo a bagno i semi dei peperoncini che li ammorbidisco in acqua poi faccio la procedura di pre-germinazione sullo scottex sulla carta e dopodiché andranno a finire in terra quelli per accelerare il procedimento perché i peperoncini sono veramente tremendi all'inizio li metti in piccoli vasetti giusto e poi li tieni in serra sì 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 io faccio sempre le semine ho provato in tutti e due i modi diciamo che in linea di massima mi sono trovato sempre bene a fare le semine tipo spaglio quindi su dei panetti di terra più grandi dopodiché divido le piantine e vado per tra piante nel no dig si presta molto di più la pratica del trapianto così come fa Charles che è la persona che io seguo anche che sta in Inghilterra meno la semina diretta sulla semina diretta alcuni ortaggi attaccano bene tipo i ravanelli per esempio non è il ravanello lo puoi fare in semina diretta se cerchi di farlo in trapianto 9 su 10 fallisci perché non sono ortaggi che vogliono il trapianto quindi l'iter diciamo di semina raccolta crescita continua per un orto per il totale sostentamento è più o meno questo cioè alla fine della stagione un po' di piante che sono andate in sementa da noi si dice in sementa sono andate in dialetto si raccolgono i semi ci sono varie modi di conservarli e di seccarli tra virgolette asciugarli e poi già comunque in questo periodo dell'anno già a fine gennaio e primi di febbraio almeno alle due attitudini quindi probabilmente al sud si farà ancora prima immagino si iniziano a fare già delle piccole piantine appunto in serra dentro dei vasetti in serra stanno dalle due settimane fino al mesetto più o meno una cosa del genere non troppo perché dopo diventa un problema e dopo si strapiantano proprio nell'orto in terra piena oppure nel tuo caso appunto nei cassoni quindi scusa tu dicevi praticamente se escludessi la serra con un 50 metri quadri riusciresti per una persona a fare un no anche di più noi mangiavamo di più di una persona se dovevo mangiare tutto quello che veniva fuori a me io sono arrivato in quelle superfici che sto dicendo ad avere 500 piante di insalata vabbè ma tu non fai testo perché mi mandi certe foto di piatti che ti mangi che io giocando giocando è divertente quindi diciamo che arrivare ad avere 500 piante di insalata e non essere neanche rattristato nel doverla strapiantare e buttarla nella compostiera perché comunque per me era ciechio che si chiudeva quindi io avevo delle galline che si alimentavano con quello che alla fine non era più neanche scarto per me ma era un esubero e visto da un certo punto di vista può sembrare sbagliato però io quei semi non li ho pagati la natura me li ha donati e mi li ha regalati se anche li avessi e ne ho dati via veramente tantissime sia di piante che di sementi è arrivato a un certo punto il ciclo a me la terra deve essere impegnata perché il procedimento che viene attraverso la fotosintesi coerofiliana mi porta del nutrimento nelle mie radici e quindi mi nutre il mio composto il mio letto di semina e di conseguenza non è un problema se ho messo anche 50 piante in più che me ne faccio tanto se poi non le mangerò tutta non riesce a mangiarle è chiaro noi mangiavamo parecchio io portavo a casa diverse cose qualche persona che mi conosceva passava e mi diceva guarda mi piace questa taglia tac tagliavi premesso che se parliamo prettamente di insalate iniziamo la pratica che ho imparato io da Cias della mungitura quella proprio di sfogliarla e basta lasciare sempre il cuore che si riproduce abbiamo una resa veramente tipo piante che sono partite a dare foglie ad aprile e hanno smesso a ottobre è incredibile col metodo tradizionale del taglio diciamo netto che è quello che applico io però proverò da quest'anno a fare come dici tu e Charles e poi meno si si faccio guarda un paio di lo taglio una volta ricresce un'altra volta e tutt'al più lo fa una terza volta se va bene ma proprio se va bene se no devo se va in sofferenza se va in sofferenza devo riseminarle eventualmente perché poi diciamo le insalate si seminano anche a più riprese volendo durante l'anno ma volevo chiederti una cosa ah no volevo scusa e quindi è interessante questo no perché col metodo no dig e qui ne esce un vantaggio molto importante alla fine con 50 metri quadri produci tantissimo invece dalla mia esperienza ti dico che io che non ho mai usato il metodo no dig è per l'autosostentamento per una persona è praticamente il doppio di spazio io uso praticamente il doppio di spazio cioè ci vogliono 100 metri quadri per quanto mi riguarda per avere abbastanza verdura per una persona durante l'anno è vero che una parte di orto la ho un po' di piante un po' di prugne un cacchi eccetera qualche mela però non occupano tantissimo tutto sommato quindi molto interessante no questo vantaggio del no dig di occupare pochissimo spazio occupiamo meno spazio abbiamo il vantaggio appunto di avere il terreno che è molto molto produttivo perché oltre a non avere richiesto particolari interventi quindi ci rifacciamo alla prima puntata che diceva appunto il no dig i vantaggi stanno proprio lì abbiamo questo grosso vantaggio di ottimizzare bene lo spazio che noi abbiamo a disposizione abbiamo la possibilità di crearci delle coperture che poi potrebbero diventare anche delle mini serre nel caso in cui non abbiamo fisicamente la possibilità di fare delle serre quindi diciamo che in linea di massima ecco lì ci si presentano diverse possibilità da questo punto di vista Mauro quali sono gli elementi essenziali che ci devono essere in un orto oltre alla coltivazione tipo ad esempio dicevi una zona per il compost facevi per esempio cosa metteresti diciamo in un orto se dovessi consigliare ad una persona di prepararsi un orto da zero per essere comodo avere tutta l'acqua ad esempio avere il compost quali sono gli elementi essenziali da mettere? allora uno degli elementi essenziali è lo spazio lo spazio nel senso che ottimizzare lo spazio perché ho visto orti pieni orti proprio veramente intesati e la persona che doveva operare nell'orto diventava peggio che fare un intervento chirurgico quindi il non potersi muovere liberamente all'interno dell'orto e quindi non gustarsi quel momento come un momento di pace e non come un momento di produttività assoluta questo porta già a sbagliare dal mio punto di vista quindi là dove nel mio orto si vedevano quei grossi passaggi larghi un metro con tanta fioritura perché non avevo neanche mai paciamato i passaggi con il cippato come fanno altri ma lasciato tutto il verde ci sono delle immagini che adesso purtroppo forse non ci sono più perché non ho su facebook però su facebook c'erano delle immagini che parlavano da sole quando c'erano centinaia e centinaia di fiori di terassico per esempio fioriti che servivano ad alimentare gli animali e gli insetti impollinatori quindi a quel punto che magari qualcuno pensa che sia spazio sprecato invece sai ha questo senso e poi in più sei comodo da passare sei molto comodo da muoverti eccetera dicevi esatto poi un angolo sicuramente una zona della compostiera che non deve essere vissuta come un problema dei topi come un problema di quel perché dipende dagli scarti che ne alimentiamo quindi se evitiamo di scarti alimentari i cibi cotti e dovutamente andrebbero evitati quindi noi abbiamo e non deve essere lontana perché non voglio necessariamente fare un chilometro per andare a portarmi ho allontanato la compostiera perché pensavo di allontanare il problema no hai allontanato la compostiera perché così fai il doppio del lavoro quando devi andare a riprenderti il compost o a portarci le cose certo bello sarebbe addirittura averlo come nucleo centrale dove tutto il mio orto ruota attorno a questa cosa che è la produzione vera e propria di quello che è il mio valore in compost e quindi mi muovo libero mi muovo in armonia con il mio orto lo stesso sta facendo la natura con noi se la rispettiamo quindi donandoci i frutti e a quel punto ci troveremo ad avere anche questo qui che per me è il nucleo centrale io l'avevo in parte perché nel mio primo progetto quando l'avete visto dal video del pollaio nasceva per una ragione semplicissima che era quella che era a supporto calorico del pollaio era il riscaldamento dei polli il mio compost in fondo però vi devo assicurare che era di uno scomodo ma di uno scomodo che se avessi fatto un video su quello avrei dovuto mettere 500 bimbo nella registrazione perché era veramente scomodo senza contare volte che sono scivolato dalla rivetta quando pioveva un pochino è quello bisogna stare attenti e scambi per le piante aromatiche tu le confini in una zona oppure le piante frammiste al resto sono varie filosofie no? io avevo una zona definita delle aromatiche perché le aromatiche così come succedeva nei vecchi conventi piuttosto che in quei posti dove si trovano ancora oggi venivano normalmente messe nella zona più vicina alla cucina nella zona più vicina alla zona dove tu vai a poi utilizzarli quindi partivo per esempio esco dalla casetta come nel mio caso andavo fuori mi tagliavo quelle quattro foglie e poi dopo mi mettevo le mie cose nel piatto nella parte che io andavo nella pietanza che andavo a cucinare quindi perché averla in fondo all'orto quando posso averla attaccata al fornello quindi una zona dove vicino magari a quello che può essere un piccolo capanno anche giusto perché nell'orto è importante avere un piccolo capanno al riparo la zona delle aromatiche la metteresti lì vicino al capanno no? sì e soprattutto anche perché le aromatiche sono piante che la maggior parte dei casi sono comunque anche feremmi quindi tipo un bel rosmarino della salvia delle piante che comunque mi restano se restano vive non ghiacciano le radici ho la possibilità di coprirle abbelliscono danno un profumo sensazionale quando passi le tocchi dentro io addirittura andavo apposta a muorele per gustarmi questo profumo che poi emanano sì poi ricordiamo che molte piante aromatiche sono praticamente perenni il rosmarino la salvia l'alloro volendo anche la maggiorana sono piante che rimangono per sempre e quasi per sempre diciamo e senti quindi dicevi queste sono un po' le parti poi per quanto abbiamo accennato del capanno il capanno è un luogo bello anche solo per rilassarsi e bere un bicchiere di vino dove magari ti siedi a sfogliare l'insalata oppure a pulirla per andare in casa quello essenziale fare un piccolo capanno una tettoia non lo so tu avevi la casetta giusto? sì io avevo la casetta e c'era anche la baracca diciamo in fondo dopo la serra che era il posto dove io però svolgevo principalmente lavori manuali lavori di costruzione o ricovero attrezzi o del genere la serra era quello che usavo come equivalenza del capanno la casetta invece si prestava per cucinare e per vivere diciamo fondamentalmente però diciamo nella fase intermedia avere una baracca un capanno dove poi mettersi anche a dividere i semi a catalogarli fare le bustine mettere le scritte sì 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 ma anche solo sedersi e prendere un po' di fresco l'estate leggere un libro di smettere di lavorare per esempio ricco se lo risparmi ma se dov'è che è risparmiato tempo e quindi il capanno è un posto diciamo così per noi per vivere più tranquillamente l'orto oltre che appunto lasciare gli attrezzi perché sotto l'acqua gli attrezzi ecco ricordiamo anche il fatto che è possibile costruire qualcosa che sia funzionale anche legalmente intendo che sia funzionale all'orto all'interno di un terreno che sia solamente agricolo giusto cioè non si può costruire in muratura se il terreno è agricolo quindi non è una certa metratura non più grande di una certa metratura giusto esatto però a parte rari casi diciamo se si vuole costruirsi un capanno in legno ad esempio ed è completamente funzionale all'orto quindi per appunto lasciare gli attrezzi o per avere un tavolino così si può fare no? questo giusto Mauro? e probabilmente verrà classificato poi comunque io consiglio di fare procedure che prevede il comune nel luogo dove risiedete perché sono normalmente queste norme comunali o comunque regionali nella maggior parte di casa addirittura comunali per esempio io qui a casa ho avuto anche il numero di stalla con le capre con tutto e non ho mai avuto problemi perché in assenza di una regola di quel tipo ben precisa va dalla regola che se nessuno si lamenta dei tuoi animali in quel caso da noi li puoi tenere certo io avevo delle ocche che poi hanno dato fastidio perché erano dietro nel bosco e le persone che prima di fare la segnalazione all'AS hanno chiamato me dicendo che veramente erano diventate fastidiosi a quel punto le ho dovute dare via perché violavo io il regolamento certo da dove c'è bisogna dirlo perché appunto anche se non sbaglio è penale costruire qualcosa in muratura in un campo agricolo senza poi dichiararlo quindi finché si costruisce in legno bisogna comunque credo chiedere il permesso di solito dipende dai comuni come dicevi te però ad esempio da me è necessario chiedere il permesso penso che vengano anche a controllare verificare però se è in legno se è smontabile e sotto una certa metatura si può fare però bisogna stare attenti insomma se vogliamo costruirci un capanno il messaggio che voglio far passare che vogliamo far passare è chiedete informatevi verso il comune perché si rischia anche il penale quindi bisogna stare attenti non vorremmo trovarci agli arresti domiciliari per aver fatto un orto per un orto perché poi si finisce lì non si va in galera ma arresti domiciliari arrivano e senti scusa quindi per concludere un po' la configurazione dell'orto prima è nata la serra va bene uno spazio per la serra e poi anche per l'acqua per la raccolta dell'acqua piovana può essere utile se abbiamo la possibilità di farla a questo punto il capanno stesso potrebbe tornarci comodo per raccogliere dell'acqua piovana che è sicuramente migliore che non acqua di di fonte diretta a meno che io non abbia per esempio anche un bel pozzo ove se c'è consiglio comunque sempre di portarla in quota e di stemperarla alla temperatura comunque ambiente o comunque meno di utilizzo e non di alimentare le piante ad acqua diretta dal pozzo perché arriviamo magari da un pozzo basso che l'acqua viene fuori bella fredda insomma la pianta in quel caso ha una certa shock termico che magari non è gradito questo lo può dobbiamo immaginare prego prego che le piante che siamo noi le piante una volta un vecchietto in una in una baracca appunto di queste baracche dove si conversava di queste cose mi disse ma te staresti fuori lì adesso così così dico nostri no oggi fa freddo va bene allora anche la pianta pensa alla stessa cosa quindi non è complicato ci sono delle cose che magari dobbiamo anche imbedesimarci voi vorreste una bella doccia d'acqua ghiacciata magari dopo tutto il giorno che siete sotto il sole non so se fa proprio benissimo esatto esatto magari la fai per rinfrescarti però una pianta bisogna essere trattata in un certo modo no poi tra l'altro lo dicono anche e dalle mie parti la chiamano acqua polsada cioè acqua riposata in dialetto dicono date alle piante l'acqua polsata perché anche quella che esce direttamente dall'impianto idrico perché sotto sotto terra è molto fredda ovviamente per il punto che è sotto terra e quindi dicono lasciatela riposare un po' tipicamente da me negli orti ci sono sempre dei grandi bidoni di acqua dove l'acqua viene lasciata lì e poi si pesca con un secchio e si dà a mano quando è a temperatura ambiente tra virgolette e quindi bene molto interessante questa configurazione dell'orto senti secondo me abbiamo dato parecchie informazioni non so se c'è qualcosa altro di interessante magari potremmo dire quali piante selezionare secondo te per fare una lista ma per l'autoproduzione dei semi diciamo che ne parleremo proprio in separata sede perché è una delle puntate che avevo previsto per parlartele per esempio avevamo una cosa quali semi ecco la quinta dovrebbe essere sementi quindi quando arriveremo al quinto punto incuriosiamo i nostri follower adesso dicendogli che fino al quinto punto di Mauro arriveremo a parlare anche nel dettaglio perché fino a quel momento io magari sarò anche in grado di mettere insieme alcune informazioni in più e di far vedere anche magari nella pratica qualche breve pezzo di video dove facevo queste cose mentre invece per l'autosospettamento sicuramente ecco perché è una domanda che mi hanno fatto in tanti ma io vorrei fare anche la polenta io vorrei fare anche il maestro allora io proprio in due minuti vi dico esattamente quello che è successo a me io per avere i primi 18-19 kg di farina di polenta integrale macinata al mulino qui vicino a casa mia a pietra avevo qualcosa come 2500 piante a una distanza di 30 cm una dall'altra si possono fare anche più fitte come fanno nell'intensivo però se avete delle piante di mais come quelle che avevo io non potete metterle a 17,5 che è la distanza che fanno le seminatrici automatiche quindi togliamoci della testa non è funzionale 30-50 addirittura quindi si parla di avere due pertiche quasi impegnate per fare mais se vogliamo fare patate per un paese parliamo di avere almeno 1000 metri di patate io avevo 700-800 piante di patate certo tantissime quindi ecco siamo in condizioni l'autosostentamento quindi l'auto appunto l'autoproduzione in questo caso per uso proprio deve essere ben distinta questa cosa allora io voglio fare patate perché devo dare da mangiare a una caserma o devo dare da mangiare a due persone barra tre certo è importante nella scelta delle misure anche se uno sta per adesso per esempio comprando un orto è vero che nel grande ci sta tutto sì attenzione invece siamo sicuri che dobbiamo comprarlo per forza grande ci serve tutto quel posto anch'io stesso adesso che sto cercando quel nuovo luogo non lo voglio troppo grande perché so che troppo grande c'è troppo da fare troppo da fare troppe spese certo per cui troppe spese in tutto di tagliare o di energie proprie questo è importante perché questo discorso dell'autoproduzione si può fare su più livelli si può dire io mi distacco completamente non voglio più comprare la verdura dal supermercato perché non mi piace come la coltivano perché magari usano veleni allora uno dice ok faccio un grandissimo lavoro però uno può anche pensare io mi autoproduco solo una parte delle cose per risparmiare e le altre vado ad acquistarle e magari lì posso stare attento ad acquistarle direttamente da altri contadini ad esempio oppure scambiarle con altri contadini perché questo è molto interessante era lì che era bello arrivare è uno degli argomenti che trattiamo anche poi però è bello lo scambio lo scambio sicuramente è forte e quindi quando si parla appunto di un orto per il totale autosostentamento bisogna anche metterci la testa ragionare non fare una cosa stupida dire pianto tutto pianto anche il mais pianto anche il gran turco va bene si può fare nessuno giudica chi lo fa però voglio dire poi il tempo è prezioso il lavoro nei campi comunque richiede molto tempo quindi usiamo la testa in queste cose io vi faccio una breve lista di quello che pianto io giusto per così per vedere magari mi confronto con Mauro ci confrontiamo in diretta Mauro se anche te pianti queste cose io nel mio orto nei miei due orti lasciamo perdere le piante da frutto pianto di solito i pomodorini sia pomodorini grossi cuore di bue che pacchini perché i pacchini ne fanno tantissimi durante l'estate è bello mangiarli anche così le zucchine i peperoni però io pianto quelli soprattutto quelli frigitelli piccoli perché vengono più rapidamente e richiedono anche meno calore meno caldo diciamo perché io sono al nord quindi poi i fagiolini io pianto quelli sia quelli ho provato per un anno a piantare quelli nani però in realtà poi ho visto che piantando quelli che crescono in verticale riesco a fare delle produzioni veramente esagerate perché poi arrivano tutti in un colpo e non so più cosa farmene però li regalo di solito poi tantissimo basilico io pianto una marea perché poi faccio il pesto alla fine dell'anno e quello lo tengo per tutto l'inverno basilico produce tantissimo anche cetrioli patate non tantissime devo dirti la verità carote non tantissime patate e carote sono cose che compro di solito io perché appunto non ho ancora provato il metodo no dig e quindi mi occupava tanto spazio però proverò come dici te e poi ovviamente l'inverno faccio cavolfiori verze radicchi insalate quelle che vanno bene l'inverno io pianto sostanzialmente questo queste sono le produre che pianto io non so se tu aggiungi qualcosa a questa lista magari io per esempio sì beh insalate tutte io sono un lattugaro io mangio sono come una tartaruga mangio solo la lattuga praticamente vedi nel mio coriadaggio nel mio stile di impronta di vita che voglio dire che voglio trasmettere anche a tutti alle mie figlie comprese che ieri sera hanno fatto una live con me dico sempre il coriadaggio corrisponde anche a quello la tartaruga coriadaggio piano piano però intanto alla fine arriva sempre dove deve arrivare nutrirsi anche come una tartaruga soprattutto mangia tanta lattuga poi vabbè le cicorie chi piace un po' l'insalata amara per esempio ci sono delle cicorie fantastiche che fatte con le uova sode spettacolare sono morte con le uova sode fagioli tu li pianti fagioli fagioli ho sempre per il momento non sono mai riuscito ad avere tranne un anno nel campo grosso una bella produzione che poi purtroppo è stata in parte decimata da ladri nella notte tipo veramente due carriole mi sono sparite qualcosa come due carriole da 40 litri di fagioli era il mio fabbisogno annuale eh sì annuale quel tipo di orticolo non l'ho mai fatto per dare a nessuno perché è una cosa che puoi fare solo per te stesso quindi magari ti concentri su delle aree ben precise ti fai la tua produzione arrivi ad avere di 3-4-5 kg di fagioli sgranati te li ritiri io li ritiro addirittura secchi quindi li metto via più in congelatore freschi ma li ritiro già seccati faccio seccare proprio le cipolle questo aiuta e cipolle e sedano il corcio che ho scortufo adesso ci sono dei fagioli tu fai anche le cipolle vero? mi dicevi cipolle su quantità industriali un porro anche lo metti i porri ne ho fatti tantissimi i porri inizio il seminale adesso per esempio siamo adesso al momento che noi stiamo facendo questa cosa siamo a gennaio ancora a fine gennaio quindi 30 oggi sì e arriveremo arriveremo sono già quasi in ritardo faccio la semina dei porri per averli pronti il prossimo inverno e lì entra in gioco proprio il discorso del tempo di capire un attimino alcuni meccanismi e chi è nuovo nell'orto chiaramente deve avere la pazienza l'orto chiede proprio tanta pazienza hai ragione però è bello così si ritorna un po' a seguire i ritmi naturali a capire che ci sono dei momenti in cui non devi fare niente che se fai qualcosa sbagli che se fai troppo nell'orto anche fai male quindi è molto bella questa cosa è un ritorno alla natura va bene Mauro senti io penso che abbiamo dato una idea parecchio chiara di come creare un orto per il totale autosostentamento io vi ricordo che Mauro ha un canale youtube che si chiama gli orti di Mauro dove proprio fa questo vi fa vedere come si coltiva l'orto adesso ha un progetto bello che sta cercando un posticino nuovo dove ristrutturare una casetta e coltivare un nuovo orto quindi dà consigli a 360 gradi quindi se volete seguirlo sul canale youtube ha un gruppo telegram e ha anche l'instagram dove pubblica ogni tanto qualche foto vi lascio in descrizione nell'info box tutti i link per i social di Mauro vi lascio anche un link a un articolo sul blog smettere di lavorare punto it risalente al 2017 dove ho fatto una lunga chiacchierata su come faccio io ad avere un orto per la totale autoproduzione che è un po' diverso da come fa Mauro è stato bello confrontarsi Mauro io ti ringrazio tantissimo prossimo punto vuoi sapere il prossimo punto voce in tempo dirtelo sì certo il prossimo incontro i nostri follower devono sapere che la prossima volta trattiamo le patate fatte su piccola scala quindi le famose 130 patate partite da 12 tuberi in soli 2 metri quadri in soli 2 metri quadrati sì sarà bellissimo vi farò vedere come ho preparato il letto di semina vi parliamo di questo serve o no la stratificazione tipo torre ecco questa qui è un'altra delle cose che è bello approfondire perché ci sono delle varie discordanze anche in quello quanto devo bagnare che è una domanda che mi fanno tanti al momento della raccolta come posso fare ci sono anche dei trucchi lì volendo e delle considerazioni generali che poi faremo così questo è il nostro prossimo appuntamento molto interessante perché le patate tra l'altro sono uno di quegli ortaggi che richiedono molto spazio invece con la tecnica che ci insegnerà Mauro le possiamo fare anche sul tetto del condominio e farne tantissimo e quindi bene Mauro un grazie immenso per i tuoi preziosi consigli e per il tuo tempo e ci vediamo presto ciao a tutti grazie a voi